Un equipaggio di militari della Guardia Costiera durante l'espletamento di un servizio finalizzato al contrasto della vendita abusiva in Corso Umberto è stato aggredito nella tarda mattinata di ieri da un licatese che si è successivamente costituito ai carabinieri. Dopo il sequestro di una buona quantità di pesce fetido che era in vendita per strada, il doblò su cui sono intervenuti i quattro militari dell'ufficio circondariale marittimo è stato fatto oggetto di insulti e del lancio di due meloni che hanno infranto il lunotto posteriore finito in mille pezzi. Le schegge di vetro hanno colpito due militari, entrambe donne che si trovavano sui sedili posteriori. Le due donne sono state costrette a ricorrere alle cure del pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Alto Passo a causa delle ferite da taglio riportate e sono state dimesse subito dopo le medicazioni. A presa la notizia, a Licata si è prontamente portato il comandante della Capitaneria di Porto Empedocle, il capitano di fregata Massimo Di Marco, che ha voluto testimoniare la propria vicinanza alle due militari ferite e in generale a tutto l'ufficio di Via Libotti, diretto dal tenente di vascello Luca Montenovi. L'uomo che si è reso protagonista di questo deprecabile gesto è stato denunciato. A stretto giro di posta è arrivata la presa di posizione del vice sindaco Angelo Cambiano, che ha espresso solidarietà ai militari vittime dell'aggressione odierna e condanna per l'episodio verificatosi. Mi sento inoltre di dare sostegno e approvazione nei confronti dell'operato del comandante della Guardia Costiera Luca Montenovi nel tentativo di debellare l'abusivismo e la vendita di alimenti per strada. Questo soprattutto a tutela dei commercianti che ogni giorno alzano la sala cinesca dei propri esercizi e pagano regolarmente le tasse.